Di questo lavoro mi piace la possibilità di, appunto come dicevo, di spaziare dal livello alto del software fino al livello dei segnali e degli apparati elettronici. Mi occupo del software a diversi livelli, sia a livello applicativo che a livello quasi fisico. Permettere all'utente di gestire le mie situazioni che possono riguardare l'ambito militare, l'ambito automotive piuttosto che l'ambito ferroviario, sia a livello basso per la gestione delle periferiche hardware e degli apparati che sono coinvolti nel progetto stesso. Deciso di lavorare per il secola perché mi è stato proposto di lavorare su progetti embedded che era una parte che avevo toccato in ambito universitario e all'inizio della mia carriera ma poi l'avevo tralasciato un pochino e con progetti tipo quello di cui mi sto occupando adesso ma anche in passato, in ambito militare, mi consente di crescere dal punto di vista del software embedded e quindi del software a bassissimo livello. Ho la fortuna di lavorare con collaboratori di alto livello e da qui poter imparare anche altri aspetti del lavoro anche dal punto di vista elettronico.